un saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale come al mio fianco c'è la bellissima Sarosky siamo sempre vestiti uguali siamo sempre nello stesso giorno forse sto meglio forse sto meglio non si sa non diciamolo e oggi raga abbiamo un metodo bello posso dirlo bello ed eccolo qua WCW World Heavyweight Championship gol per contro Booker T ragazzi a Monday Nitro mamma mia e si bussa alla porta di Mr. Bill di Mr. Bill gol 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 sentilo il pubblico lo chiamano lo incitano io e mio figlio lo chiamerò Bill in onore a lui si lo chiamerò Bill e tutti i cazzo di bambini all'asilo dovranno chiamare gol ti prego raga vabbè raga bruciato completamente bruciato all'anagrafe siccome andrò io all'anagrafe raga mi dirò meta Bill per gli amici Golby golberg io questa entrata penso che sia una delle più più belle maestose ma perché poi lui vedi questo fumo ragazzi lo scherzo ne va ve lo racconto io lui aspirava il fumo di questi diciamo fuochi artificio e sembrava un cazzo di drago che usciva dal fumo ok quindi sputava dal naso e dalla bocca questo fumo raga era una cosa bellissima e tu quando lo vedevi c'è lo urlavi proprio con tutto te stesso gol gol ma io che sono bucker t io sei golberg no ragazza non io golberg faccio come Leonardo Di Capri alla salute mamma mia king dai salta saltiamo saltiamo intanto il pubblico non mi sembra per niente diviso cioè stanno urlando tutti i golberg ancora? non si fermi è di parte è di parte abbiamo messo la big red machine e parte cane la big gold belt giusto? la big gold belt perché in quel periodo mi sa che usavano proprio questa ero indeciso se mettere quella come la blue hop però dai scaldiamo si parte si parte allora qui facciamo un bel ritorno al passato se non ho sbaglio questo match ce l'aveva chiesto Carlo che ci chiedeva tutti i match per carletto molto molto retro quindi ci ha ci ha deliziato con questo bellissimo incontro tra due grandi grandi della WWE ma uno su tutti è più bello Bill Bill che è mamma mia che forza che uomo è sposato si Bill penso di perché non è da non te lo sto dire non so la vita privata di Bill è un po' riservato secondo me magari è un po' non ti sei informato a riguardo secondo me non è molto social ragazzi non lo so se voi sapete se Bill non ho parato nulla se voi sapete se se voi lo sapete ragazzi quando ve lo sapete se Bill ha una famiglia ha moglie ha figli non lo so ma te ne immagini tu io figlio raga lo chiamerei Goldberg lo vuoi subito certo raga nella rubrica lo salverei Goldberg 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 così solleviamo la baluzza dai comunque te lo dico te lo dico adesso e mai più e mai più quindi lo fermo ripetere dopo mi devi fare che gli ho dighi ma sei proprio un animale ma cazzo sto parlando come il pubblico caraccai sforbiciata come si chiamava la moglie di Booker T che entrava sempre con lo scerro Queen Booker dai è vero cazzo Queen Booker raga famatevi commenti Queen Booker perché ah cazzo aspetta c'ho anche questa ma che cazzo sforbiciata ultimato ah raga vedete che io mi chiedo ma perché la fa con la sinistra ma perché lo fa con la sinistra lo faceva di destro ma no io non capisco perché la WWE cioè fa queste cagate assurde ma io dico raga bello raga bello raga come cazzo hai fatto non te lo dico no raga stupendo bisogno di lo vuoi di nuovo si aspetta mentre sono fuori ti prego regalamolo di nuovo stai giù eh ma vai giù cazzo no non lo fa più dai dai ho perdito il balletto eccolo no raga no non ci posso credere cazzo stupendo bellissimo bellissimo giuro ma che cazzo raga che bello ma te la paro mi hai rotto i coglioni raga sapete cosa vuol dire che te le stai a terra tu dici music dai raga non ci posso credere Cristina davena eh mi hai rotto il cazzo tu e Cristina davena no me l'ha parata cosa avevi che animale no 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 ci credo mi fai a fare in culo sono rosti oh dai mi hai parato due mosse tre mosse finali cazzo raga erano una parata dopo l'altra sono anche stordito cazzo aspetta non lo fai con i raringi sicuro sicuramente lo fai dai raga non ci posso credere però la Swarovski ci sta parando le mosse mi sta imbestialendo ma perché che rumore per le mie orecchie raga sei proprio vero io non ho parole ragazzi giuro non ho parole sto sbancato giuro ma che cazzo era Jean-Claude Van Damme raga Roberto Bolle no lala mi hai rotto il cazzo amore aspetta dai vieni vicino a me amore niente cazzo ma cos'è una DDT no ce l'ha parata la farò scherzo non ci posso credere dai non me l'ha parata non me l'ha messo guarda guarda raga sforbiciata per la vede ti prego ti prego ci prego raga io non ho parole Farosky ci ci para le e vieni qua Farosky fai vedere il cane al pubblico dai che lo vogliono vedere è questa vicino a me adesso è tranquillo Farosky me lo telepago cazzo mi fai giocare mi fosti solo qui nel mondo sicuro non c'è solamente Queen Booker ragazzi adesso ve la regalo dai te la faccio fare dritta dalla NFL Bill Goldberg la paro mamma mia fammi il saltello mi hai rotto ti ho rotto la faccia e adesso la jack con combo schienamento Cristina Bavena dai cazzo carichamolo su 1 2 3 il pello capito si metteva così attivissimo e ti schienava dai resilienza era no problem no problem e poi dove stiamo la roba che cazzo sei dovevo saccare il naso sono qua sono qua Bill Goldberg Bill Goldberg comunque volevo fare un po' di ciao ciao volevo fare un po' di storia ragazzi ma sinceramente non ero più paliera idea quel periodo forse non ero manco nato quando loro si sono con sfida ma forse si dai 96 magari si no sinceramente non ho mai visto questo match ma la realtà però lo riscriviamo oggi davvero ah ma è così come back e so solamente che cioè no ho sbagliato l'alto ultimo ne approfitto allora no allora presumo che abbia vinto a Goldberg dato la sua vittoria di la sua streak di imbattibilità nella WCW di 400 match a 0 quindi si aveva una streak assurda e poi chi l'ha chiusa io adesso l'ho fatta di destra non ci credo no raga la chiuso io la streak no non ci credo dai uno hai la resilienza cazzo l'ho già usata no Sarosky perché l'hai fatta i miei risparmi perché volevo rifare questo si è risparmiato mi hai rotta le palle giuro me l'hai proprio sfracassata hai visto che brava ma mi hai fatto prima no mi hai sbagliato tanto la riguaglia anche adesso chiuso io no raga non ci posso credere devo ridere se vuoi qual era la mia mossa speciale me ne hai fatto mille guarda dai raga ma non è possibile sbagli di un attimo qua e sei letteralmente finito oh te l'ho fatta faceva questa è vero dai andiamo a casa raga chiediamo la streak di Goldberg che caldo io JR unbelievable ragazzi non è vero cioè Sarosky mi ha rotto che poi non vorrei dire cazzate secondo me l'ha vinto Booker T perché in quel periodo lui era champion Booker T e aveva una mezza fida con The Rock o con chi non mi dico Tripoli non sto in diretta fammelo vedere poi l'ha chiusa proprio con quella mossa finale che hai fatto tu del 2000 24 no vabbè avevo 4 anni avevo giulai luglio del 2000 avevi 24 anni quattro anni vabbè raga il migliore di sempre da qua che Sarosky ci mette il finale io direi un attimo un attimo giungiamo alle conclusioni che ho vinto io me lo meritavo fatemi sapere se vi stanno piacendo questi video con la webcam ragazzi noi ci dobbiamo un attimino ho vinto io raga c'è la testimonianza c'è la testimonianza ragazzi non so se la vedete guarda mamma numero uno esattamente con questa mossa con questa mossa quindi proprio più realistico proprio realistico il migliore di sempre 5 stelle ragazza montana quando volete l'attualità italiana un saluto ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao